coloro i quali volevano scoraggiare gli israeliti dall'entrare nella terra promessa dicevano che era un paese che divorava gli abitanti ossia che l'aria era talmente pestilenziale che nessuno vi poteva vivere a lungo per di più era abitata da mostri che divoravano gli uomini come locuste allo stesso modo mia cara filotea la gente della strada dice tutto il male che può della devozione e dipinge le persone devote e immusonite tristi e imbronciate e va blaterando che la devozione rende malinconici e insopportabili ma sull'esempio di josue e di caleb che non solo sostenevano che la terra promessa era fertile e bella ma che il suo possesso sarebbe stato utile e piacevole lo spirito santo per bocca di tutti i santi e nostro signore con la sua parola ci danno assicurazione che la vita devota è dolce facile e piacevole la gente vede che i devoti digiunano pregano sopportano le ingiurie servono gli infermi assistono i poveri fanno veglie controllano la collera dominano le passioni fanno a meno dei piaceri dei sensi e compiono altre azioni simile a queste di per sé per loro natura aspre e rigorose ma non sa vedere la devozione interiore e cordiale che trasforma tutte queste azioni in piacevoli dolci e facili guarda l'ape sul timo ne può ricavare soltanto un succo amaro ma succhiandolo lo trasforma in miele perché questa è la sua caratteristica mi rivolgo a te persona del mondo e ti dico le anime devote incontrano molta amarezza nei loro esercizi di mortificazione questo è certo ma praticandoli li trasformano in dolcezza e suavità il fuoco la fiamma la ruota la spada per i martiri sembravano fiori odorosi perché erano devoti e se la devozione riesce a rendere piacevoli le torture più crudeli e la stessa morte cosa non riuscirà a fare per le azioni proprie della virtù lo zucchero rende dolci i frutti un po acerbi e toglie il pericolo che facciano male quelli troppo maturi la devozione è il vero zucchero spirituale che toglie l'amarezza alle mortificazioni e la capacità di nuocere alle consolazioni toglie la rabbia ai poveri e la preoccupazione ai ricchi la desolazione a chi è oppresso e l'insolenza al favorito dalla sorte la tristezza a chi è solo e la dissipazione a chi è in compagnia alla funzione di fuoco in inverno e di in estate sa affrontare e soffrire la povertà trova ugualmente utile l'onore il disprezzo riceve il piacere il dolore con un cuore quasi sempre uguale e ci colma di una meravigliosa suavità guarda la scala di giacobbe che è la vera immagine della vita devota i due montanti tra i quali si sale dai quali sono fissati gli scalini rappresentano l'orazione che chiede l'amore di dio e i sacramenti che lo conferiscono gli scalini sono i diversi livelli della carità per i quali si sale di virtù in virtù o discendendo in aiuto e sostegno del prossimo o salendo per la contemplazione all'unione d'amore con dio ed ora da uno sguardo a coloro che si trovano sulla scala sono uomini con il cuore di angeli o angeli con il corpo di uomini non sono giovani ma lo sembrano perché sono pieni di forza e di agilità spirituale hanno ali per volare e si lanciano in dio con la santa orazione ma hanno anche i piedi per camminare con gli uomini in una santa e piacevole conversazione i loro volti sono belli e radiosi per cui ricevono tutto con dolcezza e suavità le gambe le braccia e la testa sono scoperte perché i loro pensieri i loro affetti e le loro azioni hanno il solo scopo di piacere a dio il resto del corpo è coperto da una tunica fine e leggera perché sono realmente inseriti nel mondo e usano le cose di questo mondo ma in un modo pulito e limpido prendendo esclusivamente il necessario così agiscono le persone devote cara filotea devi credermi la devozione è la dolcezza delle dolcezze e la regina delle vertu perché è la perfezione della carità se vogliamo paragonare la carità al latte la devozione ne è la crema se la paragoniamo ad una pianta la devozione ne è il fiore se ad una pietra preziosa la devozione ne è lo splendore se ad un unguento prezioso ne è il profumo soave che dà la forza agli uomini e gioia agli angeli grazie grazie